Ti saluto con la pace del Signore e ti auguro un buongiorno. Oggi è mercoledì 18 di ottobre 2023. Dio ti benedica e che Dio possa benedire l'intera tua famiglia. Questa mattina vogliamo subito ascoltare la parola del Signore che dice proprio così. Non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma di ogni parola che proviene dalla bocca di Dio. Questo testo lo puoi trovare nel Vangelo di Matteo, capitolo 4, versetto 4. Ed ancora, Gesù disse loro, io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà più fame e chi crede in me non avrà mai più sete. Quest'altro testo lo puoi trovare nel Vangelo di Giovanni, capitolo 6, versetto 35. Il titolo di questo messaggio è questo, argomenti di riflessione. Ciò che mi dà l'idea di quanto Dio detesti i miei peccati è il fatto che per espiarli è stato necessario che colpisse Gesù, il suo figlio diletto, l'unico che non aveva mai peccato. Il perdono per chi confessa i propri peccati è gratuito, ma è costato un prezzo incalcolabile al nostro salvatore Gesù Cristo. Gesù è venuto nel mondo per parlarci da parte di Dio, ma non solo per pagare il prezzo della nostra salvezza. Ora egli è in cielo per parlare a Dio in favore di coloro che ha riscattato, benedetto il Signore. Un credente in guerra con un suo fratello non può essere in pace con il suo Padre Celeste. Quando voi pregate non date ordine a Dio, siate pronti piuttosto a ricevere ciò che Lui vuole dirvi. Quando Dio è piccolo ai nostri occhi le cose del mondo ci sembrano troppo grandi, ma solo quando Dio è grande ai nostri occhi capiamo quanto le cose del mondo sono piccole. Tutte le religioni praticate e insegnate dagli uomini possono riassumersi così. Fai e Dio ti darà. Il Vangelo invece ci dice il contrario. Dio ha fatto e ti dona, quindi ricevi il suo dono. Solo allora potrai fare per mezzo della sua grazia. Gloria a Dio. Che meraviglioso messaggio di incoraggiamento. Sono diversi spunti, come abbiamo letto nel titolo di questo messaggio, diverse riflessioni fatte su alcuni punti della parola di Dio, su alcuni punti che si trattano parlando gli uni con gli altri e abbiamo potuto comprendere diversi aspetti. Quello più importante è proprio questo, che non bisogna prima fare qualcosa per ottenere un favore da parte di Dio, oppure essere nella pretesa di ricevere qualcosa da parte di Dio. ultimamente ho sentito una persona che mi ha detto ma io sto pregando e mi sto dedicando alla preghiera ma Dio non mi risponde. Come mai? È quasi come se Dio è in dovere di rispondere. Ma questo non è stato scritto in nessun posto e figuriamoci se Dio è in dovere di risponderci. Lui ci ha chiamati a pregare, ci ha chiamati ad adorarlo, ci ha chiamati ad ascoltare la sua voce, ci ha chiamati a essere umili e sottomessi alla sua presenza, ma non ci ha mai detto che se noi facessimo qualcosa lui sarebbe mai potuto stare in debito con qualcuno di noi. Ma questo non esiste, è fuori di ogni discussione. ricordate la storia dei Re Maggi? I Re Maggi sono persone che sono, conosci la storia, sono venuti per adorare Gesù e ti faccio presente che quando seppero che era nato il Salvatore e la stella li ha iniziati a guidare loro vivevano in Persia e facendo un calcolo tramite Google Maps ho scoperto che dalla Persia a dove è nato Gesù ci sono all'incirca 2300 chilometri. Pare la distanza come dalla Sicilia al nord e dal nord alla Sicilia, cioè un andato e ritorno. All'epoca non c'era l'aereo che ci voleva un'ora e mezza per arrivare, non c'erano neanche le macchine e con la macchina ci vuole per fare andato e ritorno almeno, non esagero, almeno due giorni, quindi 48 ore. No, all'epoca non c'erano questi mezzi, c'erano solamente i cavalli per chi li possedeva, perché non erano per tutti e i cammelli. Con il cammello io penso che all'incirca per fare 2300 chilometri ci vogliono presso a poco 30-40 giorni. 30-40 giorni. Ma ciò di cui voglio farti notare è questo, quando questi Re Maggi andarono ai piedi del Salvatore, cosa hanno fatto? Gli hanno iniziato a fare delle richieste, perché noi ci siamo fatti 2300 chilometri, Gesù hai capito? Non è che siamo venuti qua così in un giorno, 2300 chilometri, e quindi ora tu sei in dovere di darci qualcosa. Ora noi ti facciamo una lista di ciò che desideriamo, queste sono le nostre richieste, al nostro ritorno vogliamo trovare tutto pronto, va bene? Fecero questo i Re Maggi? No. Il Re Maggi è scritto che arrivarono davanti ai piedi del Salvatore e lo adorarono, punto. Non solo lo adorarono, lo baciarono, erano gioiosi di vederlo, ma oltre a questo loro portarono dei doni, non chiesero dei doni, portarono dei doni a Gesù. Questo ci deve fare riflettere, cari amici, cari amiche, cari fratelli, deve farci riflettere. Il nostro compito, se così vogliamo chiamarlo, il nostro dovere è quello di adorare Dio in spirito e verità, punto. Tutto il resto, tutto il resto è in secondo piano. Spero di non averti rovinato la giornata, comunque sia questa è parola del Signore. Quindi puoi trovarlo nella Bibbia che tutti i veri adoratori non fanno altro che adorare Dio in spirito e verità e magari fare pure qualche richiesta, ma non avere mai la pretesa di avere una risposta. Quindi adoriamo il Signore e benediciamolo con tutto il nostro cuore. Voglio concludere questo video con una preghiera, proprio come ci è arrivata una richiesta in questi giorni attraverso i commenti. Vogliamo pregare per Anna Vitagori. Ora non so se questo sia il suo vero cognome, però nell'account YouTube, perché ha un account YouTube con la quale ci ha commentato, risulta così. Anna Vitagori. Vogliamo pregare per la sua vita e chiedere a Dio una potente benedizione su di lei e poi anche sulle nostre vite. Quindi voglio invitarti a chiudere i tuoi occhi e preghiamo il Padre nel nome di Gesù. Gloria a Dio. Padre Celeste e Dio nostro ti vogliamo ringraziare, ma con tutto il cuore ti ringraziamo perché tu sei buono e la tua bontà dura in eterno. ti ringraziamo per il dono della vita che anche oggi ci hai concesso e ti ringraziamo in un modo particolare per il pane quotidiano che questa mattina, questo pomeriggio, in questo giorno hai donato alla nostra vita, alla nostra anima, al nostro spirito. Ti ringraziamo Padre e ti benediciamo nel nome di Cristo Gesù. Vogliamo presentarti questa donna Anna che ha chiesto di pregare per lei e noi lo vogliamo fare, la vogliamo presentare davanti al trono della tua grazia e vogliamo chiederti Padre Santo, Dio nostro, un tocco della tua mano sulla vita di questa donna. Benedici Anna, sostieni Anna, dalle forze per combattere, per resistere, per andare avanti e in modo particolare ti preghiamo che tu possa esaudire i desideri del suo cuore. Questa è la nostra preghiera per lei e poi vogliamo pregarti anche per ognuno di noi che in questo momento stanno guardando questo video. Voglio chiederti una potente benedizione su ognuno Padre che tu possa continuare a fare del bene alla vita nostra e in modo particolare che tu possa santificarci nella tua parola perché la tua parola è verità. Desideriamo amarti e benedirti con tutto il nostro cuore e ti preghiamo accompagnaci nel resto di questa giornata con la tua grazia e con la tua benedizione. In Cristo Gesù, Amen. Va bene, ci vediamo domani mattina al solito appuntamento con il calendario cristiano e il buon seme. Dio ti benedica e che Dio possa veramente esaudire i desideri del tuo cuore. Pace di Gesù.